Se anche voi giocate spesso a Red Dead Online, su console PS4 o PS5 potete contattarmi su uno dei miei social sul PSN oppure nei commenti sotto un video per richiedere la richiesta di amicizia sul PSN e poter giocare insieme a Red Dead Online. Ciao a tutti orketti, se no orkoverde, in questo video vi mostrerò un nuovissimo glitch per avere la lanterna al cinturone su Red Dead Online. Glitch funzionante su tutte le piattaforme del gioco. Per eseguire questo glitch dovete avere un amico che vi aiuta. Entrambi dovete essere nella stessa sessione e vicini. Poi come prima cosa voi che eseguite il glitch dovete equipaggiare la lanterna. Poi l'amico che vi sta aiutando dovrà equipaggiare il laso o il laso rinforzato e poi legarvi premendo il tasto cerchio barra B per far sì che il suo personaggio butterà a terra il vostro personaggio e poi automaticamente lo legherà al laso. E non è che l'amico che vi aiuta lancerà il laso addosso al vostro personaggio perché se farà questo il glitch non funzionerà, poi dovrà sollevare il vostro personaggio, poi dovrà lasciarlo a terra e a questo punto dovrà slegarvi. Quando vi avrà slegato, se il glitch avrà funzionato correttamente, il vostro personaggio, come ben potete vedere, avrà la lanterna al cinturone. Quando avrete la lanterna al cinturone, col proprio personaggio potete camminare, correre, saltare ed accovacciarvi che la lanterna continuerà a rimanere al cinturone. Ma se equipaggiate una qualsiasi arma, perderete il glitch in quanto la lanterna scomparirà dal cinturone. Potete anche salire sul proprio cavallo e galoppare che la lanterna continuerà ad essere al cinturone, ma appena il proprio personaggio farà l'animazione che depositerà le armi nel proprio cavallo, purtroppo la lanterna scomparirà subito dal cinturone. E niente Orchetti, come sempre, appena questo glitch non funzionerà più, scriverò subito patchato nel titolo del video per avvisarvi. Prima di terminare il video, come sempre vi invito tutti quanti a seguire la playlist dei glitch di Red Dead Online, presente nelle playlist del mio canale, in quanto ci sono ancora un sacco di glitch e money glitch, ancora funzionanti, che ho caricato in questi giorni e recentemente sul canale, che potrebbero esservi davvero molto molto utili. Quindi niente Orchetti, io spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando lasciate un bel pollicione in su, commentate e condividete. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale per diventare un Orchetto. In più, seguitemi sui social, trovate tutti i link dei miei social nella descrizione. E da Orcuber, da tutto noi ci vediamo al prossimo video, bella!